per portare avanti questa questione, questo comitato con intervento questa cosa io penso che continueremo a ragionarci insieme, continueremo a confrontarci e ci sarà un parere contrario se i nodi che abbiamo posto dal punto di vista tecnico non saranno risolti, ma anche se questi nodi dal punto di vista tecnico fosse risolti la regione potrà sempre dire no all'intesa, ma questo non si verificerà domani si verificerà sicuramente dopo l'estate, non è una questione di elezionare allora se possiamo dire anche di no, ma il procedimento va avanti ugualmente perché il procedimento tecnico ha il suo percorso e il procedimento politico ha il suo percorso che sarà soltanto esaminato al momento di dare l'intesa tra Stato e Regioni ho detto che ci sono forti tempestità e forti negatività sul progetto che è stato presentato e su questo io mi fermo e penso che possiamo continuare a ragionare e confrontarci con le positività e tenendo conto delle esigenze di questo territorio che non è soltanto un momento ma è tutto un'ultero regione per favore bisogna rispettare tutti gli interventi e io intanto me ne voglio segnalare e io intanto non è soltanto un'ultero regionale